Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Cestano quasi del tutto le fresche correnti settentrionali al sud Italia, con le temperature che gradualmente ritorneranno a toccare i 30 gradi di massima. E il preludio di una nuova ondata di calore che si concretizzerà nei prossimi giorni, con il clou nel prossimo weekend. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 19 luglio. Al mattino, tempo generalmente soleggiato su entrambe le regioni. Nubi alti e stratificati in aumento nel pomeriggio nelle zone interne lucane, sul Gargano, Puglia centrale e sul Barese. Cieli sereni in serata. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, che risulteranno in ulteriore aumento di 1-2 gradi, con massima intorno ai 30 gradi nelle zone interne lucane del Foggiano, Barese e Leccese. Venti deboli dai quadranti settentrionali al mattino in attenuazione entrosera. E per quanto riguarda i mari, da mosso il canale d'Otranto, ha poco mosso lo Ionio e l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo la nostra amica Angela Catamerò per aver fotografato questo spettacolare tromba marina formatasi la mattina di domenica 16 luglio, dinanzi le coste brindisine tra Torre Santa Sabina e Specchiolla. Il fenomeno è durato alcuni minuti, fortunatamente non provocando danni, poiché ha continuato ad agire in mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.